Buongiorno, buonasera a tutti gli amici iscritti sul canale Brasile Italiano. E poi se non ti sei ancora iscritto, iscriviti qua sotto e aiuta a crescere il nostro canale Brasile Italiano. Io sono Giaciano Eker e sono qui per parlare del libro La Prima Semenza di Ivo Gasparin. Prima di parlare del libro La Prima Semenza, adesso, non so quando volete guardare questo video, ma è possibile fare parte di una oficina d'Italiano. Cosa che c'è questa oficina d'Italiano? Una volta al mese, alla ultima settimana del mese, noi andremo a fare una live in diretta dove Valtri può dimandare tutto quello che Valtri voleva. Dubbio sul nostro italiano, come si scrive, come si parla, tutto quello che Valtri voleva. Oficina d'Italiano, come in portoghese noi andremo a dire un bate-papo, una cioccolata di noi andremo. E per partecipare bisogna struccare qua sotto dove dice, seja membro. Ossipia, per 7,99 reais, 8 fiorini, va là, ti va a far parte di questa oficina d'Italiano tutti i mesi. E, di una maniera, ti impari e di quell'altra ti giute il canale a svilupparsi. E un'altra cosa che mi voglio dire che, prima anche di cominciare a parlare del libro, qua basso un card parlando dei libri d'Italiano. Ma aspetta, non stai mi struccando qui adesso. Perché sempre che è possibile mi parlo dei libri d'Italiano. E sempre c'è gente che domanda, oh, Giaciano, dove compro i libri d'Italiano perché mi volerì imparare di più, volerì a leggere storie d'Italiano. Allora, guarda questo video fin al final, dopo metto una finestrella qua sotto per volte struccare e guardare un video dove mi parlo di una sbranca di libri italiani. La prima somenza è un romanzo storico, il 70% verità e il 30% le romanze e le fantasie, secondo il proprio scrittore Ivo Gasparin. Se non sai come comprare il libro, qua sotto nella descrizione, dà il contatto di Ivo Gasparin per altri domandare il libro. La storia, la racconta la storia che è successa con tutti i nostri immigranti italiani. Ossia, erano là in Italia, dovevo partire la fame, senza lavoro, con pochi soldi, con poche cose e bisogna andare in cerca di una vita meia. Allora, è successo l'opportunità di conoscere l'America, di rischiare la vita in un paese strano, sconosciuto e così ti ho fatto. E ho vinto dall'Italia, e ho arrivato qua nel Rio Grande do Sul, e ho trovato tutta la difficoltà, pura scapuere, bisogna ribaltare le piante, fare le soccasette, fare le cese. La parte che mi piace di questa storia è il primo Natale di loro qua nel Brasile. Il primo Natale della famiglia di migranti che si vengono nel Brasile. Come ho detto prima, è una storia che è tutto quello che è successo dal buon dei nostri antenati, ma anche quella fantasia, quella mescla di sentimento con realtà e fantasia. Allora, complimenti Ivo per questa bellissima storia, e anche che ha tanti dati che mi piace perché ti impari una sbranca di cose. Per esempio, il che parla qua è l'anno e il nome della persona che va portare la prima pianta di uva Isabel, la prima muda di uva Isabel. Allora, il che parla qua in questo libro. Il che parla anche, allora, di altri accontestimenti con il nome di posti, la data che è successo, il nome delle persone, il nome delle famiglie, il cognome delle famiglie. Allora, questo è un altro libro di Ivo Gasparin. È bello che ricevessi tutto il regalo di Ivo Gasparin. La prima semente, la prima somenza, Amaldição do Padre, Segredos de Pedra, un medio di col'altro. Anche ancora, c'è il libro Cento Storie, Cento Chacole, che sono proprio Cento Chacole per i radialisti raccontare in dei programmi di radio. È una meraviglia. E bisogna dirgli anche che questo libro qua è bilingue, ossia, è in portoghese, ma le Chacole fra i personaggi della storia sono italiani, perché era italiani che loro si parli. Allora, è facile di capire. Se tu non ti parli niente di italiano, tutti i dialoghi, le Chacolade che sono italiani hanno anche la traduzione per il portoghese. Allora, non c'è maniera di non capire questo libro. Indico, se io faccio la ferma qua sotto, è proprio un bellissimo, un buonissimo lavoro, una opera di arte di Ivo Gasparin, la prima semente o la prima somenza. Te aspetto nel prossimo video. Ciao!